Disponibile su e-cinema.it Grazie maestro. Senti qua, il mio ultimo film. L'hai visto no? Sì, mi è piaciuto moltissimo. Fa sentire. La stampa nuova. Il nostro somma autore suppone di scandalizzare l'uditorio con qualche inaudito corpo nudo, con dito, udito e udite da qualche flaccido genitale in rigoroso primo piano. Questa è secondo costui e i suoi scandalizzati sostenitori la vetta dell'arte. Come ti chiami? Rocco. E i tuoi fratelli? Quali fratelli? Quanti fratelli c'hai? Quattro. L'hai visto il film Rocco e i suoi fratelli? Dove lo fa? Ce l'hai la ragazza? Ce ne ho due. E con quale fai all'amore? Con tutte e due. Bravo Rocco, bravo. Tu si che mi piaci. Ti va a quelle la porta e puoi sempre andare a dare il culo a qualcun altro. Non sei un genio e nemmeno gli somigli. Nelle porcate dei giovani artisti si può già sentire puzza di talento, invece tu puzzi soltanto di ordine geometrico e di ortografia. Non c'è né sangue, né sudore, né sperma imputridito. Scusa, sai se c'è un ristorante da queste parti? No, qua no. Deve andarci. Senti, hai già cenato? Eh? Ti andrebbe ad accompagnarmi? Scusa, sai se c'è un ristorante da queste parti? Scusa, sai se c'è un ristorante da��들 esistica e di albo